Non sappiamo se fosse una festa a tema, di certo Giorgia Meloni e la sorella Arianna Meloni hanno avuto la stessa idea e si sono presentate con un vestito identico al 49esimo compleanno della sorella della Premier. Arianna ha organizzato i festeggiamenti nella sua casa romana. Tra gli invitati c'erano il compagno di Arianna, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, le figlie Vittoria e Rachele, la madre Anna Paratore, il personal trainer Fabrizio Iacorossi con la moglie, e Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che ha portato la torta di compleanno. La giornata di festa è stata raccontata dal settimanale Chi, che ha documentato l'evento con foto e dettagli sui presenti. Neanche a dirlo, ad attirare l'attenzione sono stati i look degli invitati. Primo tra tutti il vestito indossato da tutte e due le sorelle Meloni, lo stesso abito lungo dimissioni in maglia sui toni del beige e dell'azzurro. A differenziarle, solo gli accessori, Arianna ha scelto una borsa di Louis Vuittone Sneakers, mentre Giorgia ha optato per una borsa a mano e sandali. Scelta voluta o coincidenza? Meno elegante Lollobrigida che è arrivato in tenuta da ciclista, essendo appena rientrato dalla partecipazione all'ultima tappa del Giro d'Italia, nella sezione Non professionisti Giroe, svoltasi domenica a Roma.